Raga questa è la reazione di mia mamma quando scopre che ho speso più di 4.500 euro su Fortnite Infatti in questo video vi farò uno scherzo facendogli appunto vedere tutto il mio account di Fortnite e quello che ho speso in 7 anni Diciamo che alla fine ho mentito sul costo totale del mio account e questa è stata la sua reazione Signora mamma, stiamo registrando, saluta Ciao Ok Io gioco da questo videogioco da 7 anni, quindi dalla seconda media E come ben sai sui videogiochi si paga, nel senso puoi comprare le cose Ci siamo? Andrea guarda, stai attento a quello che fai in questo momento perché potrei anche fare Perché giuro, giuro potrei fare anche un omicchio in diretta Non credo si possa dire questa cosa, però in caso la censurerò Ti devo spiegare un po' di cose di questo gioco In questo gioco ci sono i VBAC che sono appunto le monete del gioco Mille di questi costano 9 euro Poi ci sono 2.800 che ne costano 23, 5.000 che ne costano 37 e 13.500 che ne costano 90 Eh, guarda, guarda, ho già un mezzo sospetto Poi vai nel negozio oggetti dove tu appunto puoi acquistare le cose Ad esempio, questa è una, si chiama, personaggio, si chiama skin E ad esempio costa 1.200, quindi 1.200 sono 12 euro Ok, 100 euro VBAC Io di queste skin ne ho 133 Dove c'è scritto 133 skin? Ma sei un coglione Ma la cosa bella è che ho speso i tuoi soldi Con calma Non serve picchiarmi subito No Andrea, come hai fatto a togliere quei soldi lì dal mio cuo? No, ma le ricariche della Play, quelle che ti chiedevo, le ricariche della Play era per acquistare anche queste cose Ti devo solo far vedere quanto ho speso sui sette anni su questo gioco Quanto ho speso, deficiente Queste quattro skin, come puoi vedere, non costano tantissimo In realtà me la ricariche No, io non vedo un cacchio Vedi queste quattro skin Vedo quattro petotti Esatto Ok, ma io in cash, cash, cash Aspetta C'è un bundle Sai cos'è il bundle? No, se Ok Il bundle Ah, ok I bundle Sono praticamente il pacchetto Ok, tu acquisti ad esempio 20 euro e ti danno al posto di due skin Te ne danno quattro ad esempio, no? Un pacchetto Però, già dal lato positivo che queste quattro skin qua me le ha regalate un mio iscritto Quindi non ho speso niente Di questo gioco qua c'è anche il pass battaglia Il pass battaglia arriva una volta ogni due mesi circa Ma tu tutta quelle cagate qua Tutta quella roba qua Ma quando è che l'hai scoperto? Eh, da sempre Bene Dopo facciamo i conti Va bene Intanto ho 18 anni Cazzo Vago Hai 18 anni Faccio fare un mutuo cazzo No Ci sono il pass battaglia Che arriva una volta ogni due mesi più o meno E praticamente sono le stagioni Come le serie Come le serie tv, ok? Ci sono le stagioni E ogni stagione Praticamente ci sono Tu fai livelli E ogni livello ti dà una cosa diversa Tipo qua ti dà uno zainetto Qua ti dà un personaggio C'è quello gratuito Che ti dà alcune cose Le cose un po' più sfigate E poi c'è quello a pagamento Che costa 10 euro Ok, tu lo prendi una volta Arrivi al centesimo livello E praticamente ogni livello ti dà una roba Capito? E ogni pass Ti dà tipo 5 personaggi Più o meno Non mi ricordo Siamo al quinto capitolo La prima stagione del quinto capitolo Quindi io gioco dalla prima Dalla seconda del primo capitolo Quindi ci saranno Ci sono state tante season Io le ho comprate quasi tutte Quindi più o meno Secondo te Quanto può valere questo account? Ma madre mia Non lo so Non lo so E ho paura a saperlo No, più o meno Secondo te Quanto ho speso? 100 euro 100 euro? Secondo te? Sì, più o meno 100 euro 100 euro Hai sbagliato Cioè proprio Avrà di un botto Proprio di tantissimo 1000 euro Andrea Andrea figa Andrea Stai calma mamma Non serve agitarsi Stai tranquilla Allora Efficiente Partiamo dalle skin Quindi questo bundle è stato Cioè gratuito Ok, cioè perché me l'hanno regalato Questa skin di Kaby Lame Lo conosci no Kaby Lame Quello che fa Ah io sono uscita ieri A mangiare sushi insieme Sì che lo conosci Quello è il ragazzo che fa così Ah sì Ok Questa è stata di un pass battaglia Quindi ho speso 10 euro Però beh Più o meno è stata gratis Perché comunque ne ho prese altre 5 10 euro Questo qua è Marshmallow Un cantante E io l'ho pagato Secondo te quanto l'ho pagato? L'ho pagato 1500 VBAC Allora sono 8 euro No 1000 VBAC sono 10 euro 20 euro 15 euro 15 euro solo per questa skin Ok E quante skin hai? 133 Stai tranquilla mamma Non serve agitarsi Dammi una calcolatrice Perché mi stai facendo Perché mi sto agitando Quante skin hai? 133 Guarda Io ti faccio fuori Giuro guarda Vabbè raga Escono 2000 euro No io Andrea Io voglio darlo indietro Non lo voglio più Figlio Ti voglio Io voglio darti indietro Non puoi C'è una letterina Un qualcosa Per riportare Per ridarti No Zero possibilità Allora E siamo solo alla prima fila Perché ce ne sono Un bel po' Come puoi vedere Questa l'ho pagata Altri 15 Poi Deadpool Lo conosci Deadpool Dai Dai il supereroe Sì sì Andrea lo conosco Poi c'è stato Spider Questo qua me l'ha regalato Mattia E che là E quello lì Il supereroe Cosa l'hai pagato No questa è stata gratis Questa è stata gratis Poi questa qua l'ho pagata Altri 15 Questa qua invece Era del pass battaglia Quindi era sempre Di quella roba lì Che pago 10 euro al mese Che è sempre Del pass battaglia Ma ascolta Ma tu dove vedi Quanto l'hai pagata No me la ricordo io Questa qua è sempre stata Del pass battaglia Una delle prime stagioni La prima stagione Che ho comprato I primi 10 euro Spesi su questo gioco Mammina No io ti rovino Ah ok Questa Questa è stata Una delle prime skin Che ho comprato Cioè ma tu lo sai Che tu quando comincerei A guadagnare i soldi Tu devi aprire un mutuo Per ripagarmi Di tutti i soldi Spesi a Daren Non ho mai firmato Questo contratto Poi questa è sempre Stata del pass battaglia Quindi non l'ho pagata Ce l'ho pagata 10 euro Questa non l'ho pagata Quanto? E no Tutte queste qua alla fine Devi far conto Che sono di una stagione Quindi io in totale Ho pagato 10 euro Però fai conto Che già sono 10 Fai per Non mi ricordo quante stagioni Però saremo già 300 euro solo di stagioni Con i miei soldi Con i tuoi soldi Della tua carta Della tua Con i miei soldi Con tutti i tuoi soldi Mi spiace Eh ero piccolo No ma tu sei un coglione E io più coglione ancora Andrea io non ti do più Neanche un centesimo adesso Questa è sempre stata Di una stagione Questa invece l'ho pagata A 2.000 Ah 2.000 Vuvac Quindi sono 20 euro Bravo Dai dai continua Continua Dai 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 Questa me l'hanno data Continua dai Questa me l'hanno data gratis Questa me l'hanno data gratis Sempre nel pass Comunque queste qua Al fine le ho sempre pagate Sono sempre 10 euro Più a meno Questa qua è sempre del pass Questa l'ho pagata Altri 2.000 Quindi altri 20 euro Questa skin 20 euro Questa l'ho pagata 15 euro Questa l'ho pagata 15 euro Ma tu non me l'hai mai detto Che pagavi quelle cose qua Aia Tu sei stato in malafede E io mi sono fidata No ma Te l'ho sempre detto Che compravo Ma non Mi hai mai detto quanto Non mi hai mai spiegato bene Eh no Ti pare che te lo dica Io adesso prendo Tutta quella Cianfusaglie Che hai qua dentro E le vendo tutte No Questa è una delle ultime Che ho comprato Ultima e quattro 8 euro No ma io adesso Tu Ma sono Ma tu sei ancora Collegato con la mia carta Questa l'ho pagata 5 euro Ah beh allora 5 euro Dai ci sta 5 euro Anche questa Altri 5 euro Perché sono tutti Dei pacchettini Questa l'ho comprata Questa qua è l'ultima Che ho comprato L'ho comprata La settimana scorsa 8 euro Questa qua l'ho pagata Sempre 8 euro Questa 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 l'ho pagata E l'ho pagata Tu i kick and fit Ci gioco Ci giochi Poi beh ci sono Gli zainetti Sì tutti gli accessori Esattamente Che le davano con le skin Ah questo l'ho pagato 2 euro Il fiorellino Dai mamma era obbligo Il fiorellino Porca puttana No ma tu sei Proprio scemo I picconi Ecco vai i picconi Sono belli mamma Questo figa Questo l'ho pagato 15 euro Porca puttana 15 euro Bellissimo Io 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 bellissimo Ma va a cagare No dai Andrea Ascolta Io voglio sapere Quanto hai speso Questo l'ho pagato 8 Mi ascolta Porca puzzola Questo l'ho pagato tipo Non mi ricordo Tipo 5 euro Mazza da golf Insomma 5 euro E che 20 euro 30 euro Quanto hai speso Tutto Aspetta perché qua mamma Qua ci sono I balletti Hai pagato poche Per forza Senti qua Ho preso questo Poi c'è quello di Di emine Ma il problema Che io non ho Solo queste 6 Cioè ti pare Che io ne abbia 6 No Ne ho ben 484 Cosa costa l'una 5 euro l'una No ma sei un scemo Più a meno Perché ci sono anche Quella che costano Io ti mando A zappare Il grano turco Però Non tutte costano Attenzione Perché molte Me le hanno date La maggior parte Io ne avrò presi In realtà Pagati 20-30 Gli altri Me le hanno date Tutti nel pass battaglia Quindi il pass battaglia Comunque dai 10 euro Poi ci davano Un sacco di balletti Tipo questo qua L'ha andato gratis Ad esempio Però adesso mamma Ti devo far vedere La skin Che ho pagato Di più in assoluto Secondo te Quanto ho pagato Un personaggio Un personaggio Spero poco Possibile 20-25 Questo personaggio Secondo te Quanto l'ho pagato 25 No 20 No 30 Eeeh Di più Di più 90 Di più 50 Di più 60 Di più 70 No 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 Di più Ci sei vicino 75 Quanto l'hai pagata Andrea Aia Non l'hai pagata Andrea Secondo te 80 90 Sei vicino 95 100 105 105 euro Per questa skin Però dai è bellissima Mamma guarda Tutta stellata Ma dove cazzo Sei andata a prendere i soldi Erano i miei Ma dove cazzo Mi hai messo Quindi mamma Secondo te Ma Quanto vale Intero Tutto il mio account 3000 euro 4500 100 euro Sborsati tutti Dalla mamma Ehi Aia Aia Ma sei cretino Non mi stai prendendo in giro Ma sei sceme Basta Io vado lì No Aspetta Non è vero L'ho pagata 10 euro Ti pare che spendo 105 euro Per una skin di merda E no Il mio account tranquilla Non vale 4500 euro Ma ne vale Più a meno Intorno ai 1500 Però Eeeh Figa Sette anni Devi dividono i sette anni Fai conto che sono più a meno Sono discalculico Quindi niente mamma Sei felice che io abbia pagato No Tant'altro erano i tuoi Cazzo me frega A me Quindi io adesso Codoro i file Ehi bello Bravo Complimenti Ah già Dai raga Almeno lasciate un like Che mi sono fatto picchiare Per far vedere L'account di fortnite A mia mamma Perché se no non me lo facevi neanche vedere Bastardo Eh no vabbè Che cosa te lo facevo vedere Non ti interessa Ma come no Devo ancora prendere questa season La prendiamo adesso mamma La compriamo No Fermo che la compro Fermo No Andrea Inoltre ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Come sempre vi ricordo Share like Iscrivetevi al canale Lasciate un commento Se volete supportare tutto il team Trovate il link in descrizione Dello shop dei best Con già il mio codice sconto affiliato Noi ci vediamo nel prossimo video Ciao E comprate Perché lui deve Deve ridarmi i soldi No Ciao